Siamo pronti per il nostro Menementa dopo un promo pazzesco tra l'insidabile di Burchieri il diavolo Bernie sta facendo il suo ingresso nel ring di Cincinnati qui in Ohio e ormai è tutto pronto per il grandissimo evento di WF Revenge prima edizione di questo preview che davvero può dirci molto riguardo il futuro della federazione perché Mancanzo dovrà farci un grandissimo annuncio e cambierà tutto a detto perciò non vedo l'ora e poi non vedo l'ora di scoprire chi è davvero il migliore tra Bernie e Stapendro quindi Stapendro che si è tolto di mezzo da Alexander ma che potrebbe avere molti più fastidi contro il diavolo di Bernie anzi questo è poco ma sicuro è una bella faida davvero una bella faida tra questi due che lo scorso amo a Starkade nel mese di ottobre però quindi diciamo è un'unica di si fa per farla precisamente diciamo Stapendro ha sconfitto anteriormente sotto i due a chiuduti Bernie e Bernie non l'ha presa bene quando è tornato a SummerSlam e poi settimana scorsa la firma di Contrato lo ha aggambato con la ChocSlam lo ha messo da un po' e poi dall'altra parte abbiamo una sfida Kimmister P e Victor Orton non c'è Lincoln Somma ma anche tra Victor Orton e Kimmister P non scorre il buon sound tranne Victor Orton ce l'ha con tutti quelli dell'Hot School abbiamo capito settimana scorsa eccolo qui Victor Orton beh ha litigato con la sua ragazza o meglio solo lui perché Sally era a sua cosa a disposizione Victor Orton troppo orgoglioso qua eh cioè Sally ha detto una cosa giusta non sa se Victor Orton possa davvero riuscire a battere Victor Orton però dire queste cose a un uomo orgoglioso come Victor Orton è come dire a una donna che si è ingrassata dunque non bisogna mai dirlo ragazzi è anche nella vita però insomma Victor Orton ha un attuale ha esagerato un po' dai perché Sally ha detto le cose così come stanno Victor Orton non è quello di una volta Victor Orton è davvero migliore adesso è migliorato tantissimo perciò Victor Orton deve stare attento ha sfruttato questa occasione ma ha scursovando il portiere di andare bene ma non sempre vanno bene le cose a chi lo tiene veramente ecco qui uno dei membri di Love School assieme al leader diciamo Cecco e a Nicholson sì c'è il leader cioè Cecco non è proprio un leader è il leader più gestistico perché alla fine è Nicholson quello che fa stare a corona del mondo TWF una corona che secondo noi piano piano riacquisterà valore già abbiamo visto oggi come Dan Johnson abbia voluto lo sarà meglio anche perché poi affronterà la rivence a quest'uomo finisla qui in un match senza colpi proibiti no holds bar match e per concludere il quartetto di questo match in doppia abbiamo il campione dando a priverso stipendio ecco qui il disastro americano di American Disaster stipendio un battatore stratosferico davvero riesce a trovare i vittori in situazioni impensate è per questo che è campione ragazzi si parte Bernie e Mr.P i due si sono affrontati passando dall'addertura con la vittoria di Mr.P allora Mr.P ora è King Mr.P e mi sembra che anche quest'oggi se la stia giocando su Bernie un po' così non è che forse vuole dare troppo peso a questo match è che lo chiede ragazzi eh sui tre giorni c'è questo match poi è vero Mr.P non avrà il valore del match e non alterrà un match come quello che dovranno tra i Bernie però se ci arriva anche con la saluta eh eh insomma devi stare attento qui l'attenzione è riuscito a subito Bernie eh no Mr.P si difende molto bene e poi un naso dopo lo smash e sempre anzi un po' così eh non ha iniziato bene certamente il Bernie il 300 da lì la sua postazione di manager fa davvero far molto ben troppo incredibile e poi ancora bisbite un Bernie irriconoscibile adesso è un Bernie che sta soffrendo però lui è abituato a soffrire insomma è il diavolo in persona e qui infatti si riempia molto bene qui infatti si riempia molto bene attenzione faranno il colpo mamma mia ragazzi che botta e poi in Big Booth mamma mia e poi il cambio è Victor Orton avete visto? avete visto? qui Victor Orton no no ma fai diciamo di letra con chi mi sta qui ma con il suo compagno di Stable tra un kick intanto altissimo qui Victor Orton ancora le gambe mira si diciamo Victor Orton non è sempre non ha messo una uno stratega è proprio però ora infatti mira la testa uh ha l'ambienta stavolta e poi qui esagera forse Victor Orton eh si attenzione però qui si fa spondiretti in arrivo eh si buonissima nuova però non vuole dare il cambio qui Bernie se lo voleva anche prendere perché era molto vicino però forse non voleva eh dopo non voleva peggiore le situazioni no questo giurale non c'è non è stato un buon non è corso un buon sabato perciò oggi forse Bernie vuole non avere altri problemi già stipendolo anche un problema perché lui è stato diffuso ragazzi ancora mentre ring ecco forse il momento vediamo se mi sta più di dare il cambio eh si c'è il cambio al campione WBF ma si ricopia oh che mossa doppio back su ovvio un super un doppio super back su black oh mio dio un doppio super sidewalk slam schiacciata laterale in due dal paletto eh provate se Victor Orton che non ci sta si provate che è stato brutto bruttissimo colpa la schiena infatti ancora qui il Nackbreaker il campione WBF va a rincare la Gossi forse attenzione no Victor Orton è furbo qua lo va a prendere lui per il back WBF buona manovra Victor Orton ma stipendolo è furbo è furbo c'è un altro WBF ragazzi va a dare il cambio attenzione Victor Orton qui si distrae è un peccato qua non va a distarsi ma bravissimo Orton bravissimo bravissimo verso l'angolo per la serbia di pugni forse uno due tre quattro cinque sei oh mi sta più in una lì a corrare le biciclette ragazzi allora oh tre costrui riuscire ancora all'angolo attenzione altra mossa di gopia snapper stavolta io ho un rolling next step oh un calcione low kick di Kim Mr. P a parte di Kim Mr. P con Victor Orton veramente la meglio Europa in Africa attenzione airship a vita a cuore al steveno e altra mossa di gopia che si inventa le due attenzione oh Mr. P drop kick ecco a pecciotto che manovra che manovra di Mr. P però attenzione quadrottica assegna da parte di Mr. P esco da parte di Victor Orton che ora ha delle camera con Bernie c'è meno coesione però tra i face eh davvero meno coesione attenzione va con un solo ex in arrivo attenzione Bernie qua la mini diritti che volta che volta è un bel colpo rimediato da Kim Mr. P reagisce molto bene no e tappare con i braci destri lo pregare il Bernie che forza lo alza e lo butta giù è un Bernie che forse vuole già chiudere con la CXLM eh no prima big boot e poi attenzione gli vuole tagliare la gola gesto di perugabile run diritti attenzione va Bernie va Bernie va Bernie a paletto non benissimo non benissimo però comitare attenzione Bernie ancora lo mette giù forse lo mette giù no Mr. P è furbo va Bernie attenzione lo prende on school ma la parte sbagliata lì c'è Stipendru lì c'è Stipendru eh no Stipendru non evita niente e attenzione perché ora vuole chiudere il mezzo con il Thomson con il Thomson con il Thomson Thomson fa il traio in arrivo non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo cecco deve fare qualcosa qui attenzione uno due eh ma c'è cecco lì no dai non è possibile dai Lucio mi sono terminato per puntare per colpa di cerchio attenzione Bernie qua va vuoto small package vai fino a qui sinistra uno due eh si è liberato comunque si si al 2 comunque si era liberato si è liberato attenzione si è liberato attenzione ancora small package attenzione uno due no non è il trafare soltanto contro di due mi sembra se viene non è nuovo legale però va a segno va a segno qui Bernie uno due no no niente trafare è riuscito attenzione stavolta bene è furbo stavolta bene lo vede attenzione ha stordito ma no ho messo a più di nuovo con una culla attenzione uno due e uno e mezzo stavolta attenzione altro big good Bernie qua davvero ma devo dirlo ma attenzione ha il comeback di Mr.P niente da fare non c'è nessun comeback anzi il comeback lo fa Bernie attenzione oh c'è invece Mr.P mamma mia ragazzi è la razione di Mr.P che fa qui che fa qui attenzione mamma mia un crossbody allucinante uno due e tre no c'è kick out forse anche con l'aiuto di Vince Rorton è riuscito stavolta l'altro angolo e va bene qua e spinge e va bene diritti e va bene diritti di Bernie e si è rotto le tanniche attenzione dia negli occhi non ci credo no no è una mossa di coppia che si metta no l'americana ora vediamo attenzione Bernie da il cambio è sì Victor Horton Victor Horton è stipendio attenzione braccio destro braccio destro di Victor Horton attenzione che paloma al mela back non snappero un colpo sulla nuca attenzione Victor Horton on fire adesso per me la ricorza e poi jumping mi drop giro chiarizzato ebbè è un Victor Horton stralibante e ancora le gambe è un Victor Horton che davvero qui può chiudere il match può davvero chiudere il match è proprio stipendio mi sembra abbastanza in forma ancora va con il vertical suplex su una sfida brutta colpo Victor Horton Victor Horton vado a Mike's l'assegno l'assegno e poi chiudere buona copertura uno due ah soltanto due soltanto due stipendio guarda il tutto attenzione america destroyer america disaster no Victor Horton una stampa del tutto ed ora c'è il momento te la dico io dico io potrebbe essere decisiva potrebbe essere decisiva attenzione dico io dico io assegno assegno dobbiamo chiudere uno due no non è possibile non è possibile il break ma no ma di come è fatto ste bedroom che match ricoppia ragazzi assurdo assurdo match ricoppia davvero molto bello questo e allora attenzione Victor Horton no pazzesco